Debutta oggi il decreto del Super Green Pass, che sarà in vigore fino al 15 gennaio e già cresce la preoccupazione tra i ristoratori della provincia. Da oggi in zona bianca, nei ristoranti pub e bar al chiuso potrà andarci solo chi è vaccinato, ossia chi è in possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato. Sarà obbligatorio averlo con sé per consumare seduti, non serve invece per la consumazione veloce al bar che è ad ingresso libero, così anche in zona gialla, mentre in arancione chi non è immunizzato possiede il Green Pass base non potrà nemmeno prendere il caffè al banco né sedersi ai tavoli di bar e ristoranti all'aperto. A Pesaro, per via del decreto, qualche ristoratore ha già ricevuto disdette per i pranzi di Natale o cene di Capodanno, così anche nei locali dell'entroterra. Qui la situazione è un macello, diciamo così, perché prima con il Green Pass normale bene o male la gente faceva il tampone, una cosa o un'altra. Adesso davvero siamo preoccupati perché anche a Natale tra chi è in quarantena, chi è una cosa o un'altra, non abbiamo tantissimo calo di prenotazioni. Ad esempio giornata come mercoledì avevo un signore che festeggiava un compleanno per 50 persone, sono in quarantena preventiva e già quello così, cena aziendale lo stesso disdicono. Siamo alla frutta, più che alla frutta, alla frutta variata diciamo, dai, alla frutta variata. Capodanno, Natale, qualche prenotazione l'ha già ricevuta? Allora Natale, come ho detto prima, sì, qualcosina. Per Capodanno quest'anno abbiamo deciso di non fare il cenone, facciamo la carta e terremo aperti il primo dell'anno sia pranzo che cena, però al momento è calma piatta. I controlli da parte dei titolari e gestori dei locali saranno fatti direttamente all'ingresso. Per chi verifica la certificazione verde, l'app che finora ha semplicemente letto l'informazione relativa alla validità del Green Pass, sottoposto alla scansione, dovrà leggere anche se la certificazione è stata ottenuta tramite vaccino, certificato di guarigione o tampone. In sostanza ciò significa che nei luoghi in cui è previsto l'accesso solo con il Super Green Pass, l'app segnalerà ed escluderà il Green Pass base ottenuti con il tampone. Fa strano perché molti clienti dicono che siete i pochi che lo fanno. Questa è un'altra cosa che non va bene assolutamente, perché qui ho l'uovo e la gallina, invece qualcuno né l'uovo né la gallina fa come gli pare. Praticamente l'applicazione Covid-19, quella dedicata per la verifica, è stata in qualche modo aggiornata, quindi c'è sia per rafforzato che per l'utente normale. Nei ristoranti sarà applicata solo quella Covid-19 rafforzata, anche se la percentuale è molto piccola di gente non vaccinata, però ci sono, quindi qualcuno sarà costretto a rinunciare. Questo però è una condizione per cui noi non possiamo dire niente perché se siamo aperti è grazie a questo Super Green Pass, quindi ben venga il Super Green Pass, ben venga che noi siamo aperti, anche perché la chiusura sarebbe veramente molto peggio.